Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video come al solito dobbiamo continuare i mini-choco quindi andiamo a quanto velocemente mini-choco, non mi ricordo il numero siamo a 5, 6, 7, 8, 9 e guli-quist vediamo in cosa consiste anche perchè non mi ricordo pronti, perché non mi ricordo ah ok, questo è quello che dobbiamo invertire solo diedo a 4, no 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3 sto inizando a capire qualcosa ho capito come funziona ok 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 nooo ecco 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 ok ok così è sicuro mi fissa muota ecco 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 non può fare niente ecco Allora, penso alla fine questo gioco è veramente... Difficile, dovete solo buttarsi al cacchio, perché sì, è veramente un po' complicato, quindi sì, buttate al cacchio e avete fatto. Allora, penso al cacchio. 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 Oh, anderemone. Allora, penso al cacchio. Allora, penso al cacchio. Negole. Ok. Questo vai dar un pollo di dò che lui. Allora, perfetto, ecco qua, fino almeno un po' più difficile. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, abbiamo vinto, mamma mia, un intero minicioco fatto a culo, cioè non ci ho pensato una volta a quello che dovevo fare, quindi ragazzi proprio il minicioco più bello di questo mondo, io ve lo consiglio assolutamente, fate questo minicioco che se non dovete fare letteralmente è un tubo, un minicioco più di merda che esiste, quindi ragazzi, dopo questo minicioco proprio mi passa la voglia di fare video, quindi ragazzi io mi raccomando, iscrivetevi, commentate a questo video, metteteci un non mi piace perché un mi piace non se lo merita e quindi mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao a tutti.